Taglio quarte e sess della tua origine in Amsterdam. Buon Vespero al Civi. Mi decidi dire a voi buon Vespero perché mi sento molto legato al Vespero al Vespero in Amsterdam. Io mi rincontro con uno di miei amici che mi ha detto il sento di nostalgia che ho scritto per la manco e la origina terra. Mi sento che la terra in cui la nascita è stata molto grave. E mi pensavo che le persone possono essere o legati all'interno o non. E mi, in realtà, non lo so. E questo è un grande affetto in le miei amici. No, io penso per oggi. Mi lascio a voi nel medito. Resto con noi. Con medito con noi. Grazie. Salute e buon Vespero al Civi. Grazie. 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 TAMEN CIO DEVAS ESTI EN GIUSTA MESURO ANCAO EN ESPERANTO TROVIDJAS DIVERSAI, NE MULTAI, IDIOTISMOI CAI TUTE MALPRAVE CELCAI ESPERANTISTOI ILIN CONTRO BATALAS CER LINGVO ABSOLUTE LOGICA CAI TUTE SEN IDIOTISMOI ESTUS LINGVO SEN VIVA CAI TROPESA SED, QUANCAM CELCAI ELA ESPERANTAI IDIOTISMOI ESTAS PRENITAI ANCAO ELA LINGVOI SLAVAI TUM ALIAI ESTAS PRENITAI EL ALIAI LINGVOI IL TAMEN ESTAS NE SLAFISMOI SED ESPERANTISMOI CER ILI FARIGIS PARTO DELLA LINGVO IEN LA CHIALO MALANTAO LA ELECTO DE CITIVAL TIRO SAI NAS ALMI CHI ANCORA OUDIO OMOI PAROLAS PRI LOKICCHESSO DE ESPERANTO ma la vera logica ha parlato molto in questo senso, e in un tempo non è più solo una logica, ma molti. Quindi, per vero, dovremmo uscire parole per la logica della lingua. La lingua non è logica. Le leggi, le leggi delle leggi delle leggi sono molto simili alle leggi della logica, e delle logiche, in realtà. Quando vi parlate per la logica della logica, e vi dirà che l'esperanza è logica, l'esperanza significa che l'esperanza non è una lingua. Cioè, la logica non è una lingua. Questo è il punto. Quindi, vediamoci, se questo rispondo numero uno non è molto conato. Cioè, Zamenhof giuste dirà che l'esperanza è una lingua. Una lingua. E questo significa che sì. Se ci sono una lingua, se ci sono una lingua, noi dovremmo accettare che ci sono evoluzioni le leggi delle leggi delle leggi delle leggi delle leggi che non è scritto nel libro. Sì. 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 Come ho detto. Prima ho detto come è con me prima il significato e opportuno dell'uso della logica. E io ho esperimentato nuove perspettive, anche per il video. mi stia scuicciata sì, non è. Tiro. Reago. Comento. Dancon provia attento. Gli smorgau che chi è Cian, antawe. Sen fine. 3 00